oh fratelli rossonieri amici rivali di youtube buongiorno 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 ragazzi quando c'è la champions quando c'è questo profumo qua quando c'è sto profumo qua di champions è vero che ho detto che sento di più la partita con la fiorentina perché ci tengo tantissimo a non far figure di merda in campionato quest'anno però quando ci regalano queste questa questa musichina sotto questa questa sensazione che soltanto noi sappiamo cosa vuol dire soprattutto per uno con me che ne ha viste vincere 5 5 alzala paolo alzala 5 volte alzala paolo alzala no non c'era lui c'era anche franco poi c'è stato lui però ragazzi cinque volte dai rasta alzala alzala cambiamo modo di giocare stasera ricambiamo di giocare morata per me il cambio di modulo è dato soltanto perché morata non sta bene e ho cafforo nel meglio perché secondo me lui se la giocava con 4 4 2 però vedendo la situazione gioca con con l'off 2 c quindi un po più di copertura secondo me o li fa fare la seconda punta ma per me non è la seconda punta come l'incontrista è un'aggiunta in più al centro campo a livello sia muscolare che di testa allora sinceramente posso dirvi una cosa per me faremo meno fatica stasera sul piano del gioco e non sto dicendo del risultato qualsiasi risultato venga fuori faremo più fatica stasera che con la fiorentina con la fiorentina ci sto già pensando anche se giochiamo stasera ragazzi perché il campionato il filotto di vittoria consecutiva lo voglio continuare comunque sto già più pensando nella mia testa secondo me stasera con una squadra che gioca perché ha fatto tanti gol ma ne ha subiti anche tanti secondo me no tanti non ha subito quelli siamo noi scusatemi il Bayern Monaco non non ne subisce tantissimi però ti fa giocare però ti fa giocare ti fa giocare ti dà modo comunque di di esprimerti quindi noi con le nostre potenzialità quest'anno praticamente stasera loro giocano a tre indietro mica con le due punte sarebbe stato veramente interessante l'off 2 devi giocarmi il più possibile di fianco ad ebra il più possibile stai vivendo uno stato di forma mike che è strepitoso dire che poco mi aspetto che li fai vedere un attimino le marcature come si marca come non si marca mi aspetto questo perché veramente a marcare ogni volta c'è da prendere paura ogni volta c'è da prendere paura mi aspetto veramente una una squadra cattiva sulle marcature una squadra che tiene il membro attaccato sulle natiche dell'avversario una squadra che che lotti su ogni pallone una squadra che abbia la voglia di vincere perché io ce l'ho ancora qua comunque la lezione di calcio che ho preso con liverpool ecco stasera dovete dimostrare a noi e a voi stessi che possiamo giocarcela contro una delle squadre più forti che c'è in europa la mettono le prime dieci vediamo se ce la possiamo giocare con una delle prime dieci più forti in europa che sono curioso loro in campionato hanno tre vittorie un pareggio una sconfitta o quattro vittorie un pareggio una sconfitta una roba di suo genere no forse tre vittorie un pareggio una sconfitta comunque una sola ne hanno persa fatto sta che una sola ne hanno persa mi sa che hanno quattro vittorie un pareggio una sconfitta mi pare non mi ricordo fatto sta che comunque sia bisogna entrare in campo cattivi se oggi sarà una partita molto secondo me molto di uno contro uno se giochi col cazzo duro la partita la porti a casa se giochi col pisello duro la partita la porti a casa se giochi fiacco non vinci rimpalli non vinci la partita normale a destra torna il capitano che mi viene male soltanto vederli sulla fascia torna il capitano capitano nostro vai davanti grimaldo ti dico soltanto questo perché mi pare che gioca parlo sia per emerson royal che per calabria per tutte e due parlo chi giochi giochi chi non giochi non giochi è forte è ancora più forte di là teo guarda che frimpong a me piace tantissimo frimpong è una scheggia stiamo attenti a come entriamo non ci facciamo munire subito ragazzi perché questi qua nelle ripartenze sono forti una munizione subito inizio partita comprometterebbe la mentalità sui contrasti quindi partiamo aggressivi persone su palla ma siamo attenti siamo attenti ai cartellini questi qua ce l'hanno da fare munire tanto gli altri in mezzo giochi ascolta pavlo giochi di fianco a gabbia l'avrei fatto pure io da quello che ho sentito ti chiedo gentilmente ti chiedo per favore di giocare sereno non aver tutta questa foga subito cerca di smaltirla tutta la partita questa questa foga che c'hai prova a smaltirla durante la partita con calma con tranquillità entrare cattivo come entri sta ma guarda che non giocava con tutta sta foga giocava con aggressività ma non con tutto questa calma devi anche rallentare non devi soltanto andare addosso poi vai fuori tempo devi avere devi tenere anche la lucidità per avere le marcature questo devi avere pavolo di fianco oggi c'hai matteo c'hai matteo che è stato di forma strepitosa ok quindi matteo coordina bene la fase difensiva coordina la bene ok come soltanto tu sai fare e mi raccomando le marcature centrocampo riproponiamo ancora piedi a merluzzo e sanpei soprannomi grande jussi e e riders vediamo un attimino se oggi contro una squadra che ti verranno a pressare ti aggrediscono riesci a farmi la differenza anche oggi oggi sei nel mio occhio del ciclone riders oggi tigi sei nell'occhio del ciclone ho visto anche delle cose belle che fai nell'allenamento perché comunque i piedi ce li hai ecco dimostrami che dai ancora più velocità ancora di più di quello che stai facendo perché sei migliorato anche col pensiero sulla fase offensiva sei molto migliorata stai migliorando mi stai iniziando mi sto iniziando dico a ricredere perché per me rimani non rimani un buonissimo giocatore ma niente di più per ora fammi diventa dimostrami come va fatto bene a ser che dal retro cesso è diventato un punto fermo ecco tu mi devi dimostrare che da sanpei si è diventato le di os no le di oscar f mi si è diventato ollie ollie veraton anzi te lo dico ancora di più julian ross ecco mi sei per chi lo conosce olie benji mi sei diventato julian ross ok questo mi devi dimostrare oggi a destra ci abbiamo ci abbiamo cristian a sinistra ci abbiamo raffaello e poi ci abbiamo loftus loftus me lo fai un regalo non segni non so da quanto bu da quanto tempo che non segni uff da quanto tempo che non segni ecco mi fai un favore mi puoi dare mi puoi dare una gioia oggi mi puoi dare una gioia me la togli questa soddisfazione che mi vai a segnare oggi mi togli questa piccola soddisfazione voglio un tuo gol loftus oggi voglio un tuo gol davanti gioca ebram da quello che ho capito perché murata non sta bene tammi fai star zitti a tutti quelli che ti criticano falli star zitti e dimostrami dimostrami che puoi giocare per me puoi giocare tranquillamente in questo milano anzi tranquillamente puoi 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 toglierci veramente delle grandissime soddisfazioni perfetto oggi voglio il tuo gol oggi fai star zitti a tutti quelli che ti hanno criticato e segnami voglio il tuo gol tammi voglio il tuo gol alla squadra dico di giocare con la massima concentrazione innanzitutto con la massima attenzione occhio ai primi minuti che partiranno forti loro stiamo attentissimi ai primi minuti ragazzi vincendo oggi o facendo comunque un firmeresti per il pari no non firmo mai per il pari non non firmo mai per il pari vincendo oggi però fai un grosso passo fai un grosso passo secondo me per la qualificazione non servono tanti punti se ne servono 12 13 per arrivare i sedicesimi non è che servono tutti questi punti ecco oggi mi piacerebbe tanto veramente che a livello di morale soprattutto conta tanto sta partita questo risultato positivo veramente a livello di morale conterebbe tantissimo mi piacerebbe portarla a casa mi piacerebbe veramente portarla a casa quindi ragazzi ci uniamo che sono anche in pausa lavoro sono anche in pausa lavoro ragazzi stasera a programma di stasera facciamola facciamola il pre partita oggi pomeriggio su youtube ovviamente facciamo il pomeriggio facciamo verso le sette di sera magari abbinato anche al canale viola la facciamo in contemporanea così mi faccio anche qualche partita riprendiamo la carriera fifa così stemperiamo un po la tensione stemperiamo stemperiamo un po la tensione e ragazzi vi chiedo e poi naturalmente ragazzi chi ha il prime l'abbonamento è gratuito chi ha il prime l'abbonamento è gratuito e poi cazzo se volete se molti mi scrivono su instagram rispondo sempre su instagram rispondo sempre sulle male sulle cose basta che mi fate un toc toc e io rispondo senza problemi dai raga tutti insieme abbracciamoci e andiamo a vincere sta cazzo di partita dai raga